La Procura della Repubblica verso la chiusura dell'inchiesta su Don Andrea Contin, il prete di San Lazzaro, travolto dallo scandalo a Luci Rosso e che lo vede indagato per i reati di violenza privata e favoreggiamento della prostituzione. Mancherebbe solo l'esame della contabilità del centro di urno Casetta Michelino di Ponte Vigo d'Arzare, fondato proprio da Don Contine e cinque conti correnti riconducibili al prelato. Nel frattempo Don Andrea Contine è stato sospeso a Divinis dal Vescovo di Padova.